Ciao a tutti, oggi siamo in Toscana, nella splendida città di Lucca e stiamo andando in comune per una comunicazione molto molto importante. Oggi arrivati al comune di Lucca. Allora Maria, stamattina sono venuti da noi a trovare i nostri ragazzi di Special Olympics, a piedi alle grandi gatti che conosciamo, che conosciamo già molto molto bene per tutte le imprese che fanno. Ma stamattina sono venuti passati. Ora sentiamo un attimino Claudia, intanto si saluta tutti, buongiorno, buongiorno a tutti. Questi anni hanno dimostrato tenacia, forza, determinazione, che si sono allenati con costanza e sono cresciuti. Io mi fermo perché ascoltiamo il sindaco che cosa ci comunica oggi. Beh allora io so che questa torta è veramente veramente bene che ci è arrivata una notizia molto bella e per dirvela... La diciamo in maniera ufficiale. Deve! Deve! Deve lo so investito adesso. E se mette la pace è importante. È una notizia importante. Allora, perché c'è stata tanta negazione, tanto lavoro e tanta collaborazione tra tutti voi. Allora, mi è arrivata questa lettera. Questa lettera arriva direttamente da Roma, dalla Sermos. Siamo veramente felici di comunicarvi la convocazione degli atleti. Luca Nannini e Sara Matteucci. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tanna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e allora adesso chi lo vuole dire lo dite insieme il giuramento dell'atleta che io possa vincere ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze grazie